72 hour, god damn, I'm filming me Damn, I'm in the pictures, my mind is living on a cloud now And this night is never on vacation Start up their miles on rally in truth Yo yo yo, bella raga, sono Dark Benvenuti in questo nuovissimo video Oggi sono qui in ufficio da solo Che sto caricando un video In questi giorni sto scrivendo l'History of YouTube Devo preparare, prenotare L'hotel che mi sono scordato per andare a concerto Dei Twenty One Pilots Domenica e lunedì E cosa ancora più importante Devo prenotare una sala di un cinema Stiamo preparando con a capo la Silvia Sorpresa per il compleanno di Gabbo Io sono l'incaricato per ora del cinema Da trovare solamente che c'è un problema Inizialmente la sala ci serviva per il 2 dicembre Perché Gabbo in teoria verso fine novembre Doveva raggiungere il milione Ma invece ci siamo ritrovati all'1 novembre Che gli mancano meno di 1000 iscritti al milione Sono riuscito per ora a concordarmi Per il 18 novembre Oggi fate conto che l'1 novembre Quindi sarebbe fra tre settimane Chissà se lo vedrete mai questo video Chissà se quando è che lo vedrete Se lo vedrete Il problema però qual è? Che oggi è l'1 E lui li dovrebbe Cioè dovrebbe raggiungerli domani Noi abbiamo pensato di fargli la sorpresa Inizialmente per il 2 dicembre che era qua Però non si poteva Perché cioè non si può Madonna dobbiamo aspettare un mese Per fargli questa sorpresa Il 24 già non si poteva Quindi nulla Abbiamo trovato per il 18 Però dato che lui li compie Probabilmente domani dovrebbe aspettare due settimane Due settimane sono un pochino Quindi fra un po' li chiamerò e proverò a mettermi d'accordo per l'11 Allora piccolo aggiornamento sulla sorpresona Oggi è il 9 novembre 2016 Non si vedrà chiaramente Non si sarà vista chiaramente Cinema prenotato Ho comprato la bandiera dei 21 Pilots Al concerto Qua tutti i youtuber mi stanno mandando le clip Ormai ci siamo Un problema che ho realizzato solamente oggi Che mancano due giorni alla sorpresa E quindi di conseguenza un giorno per finire il video Buongiorno Oggi è il gran giorno E Dark non ha ancora finito di editare Oh mio Dio Praticamente i problemi che ci sono stati Adesso ve lo dico Il video innanzitutto dura 35 minuti Ci stiamo Il problema è che ieri sera ero distrutto Era luna e qualcosa Ho detto non ce la faccio più A Magalette Che io adesso devo andare a lavorare Dopodiché dovrò andare al cinema Sempre in mattinata Per provare il video Che qua c'è una prova Vediamo se funziona E dopo di che ancora Dovrò andare a Modena A prendere Klaus e Joker In teoria Ancora non so nulla Quindi sì Diciamo che sono abbastanza incasinato E cioè io Sono in ritardo Vabbè Si sapeva Dark lo si sapeva già Beh dai Sono le 7.25 Io ora tiro a finirlo E ci vediamo dopo Che vi faccio sapere E ultimo aggiornamento della situazione Allora Non avevamo Avevamo Anzi Mi corrego Avevamo pensato un intro Però non siamo riusciti a farla Per dei problemi tecnici E quindi La sto facendo io in poche parole Guardate Ho pensato Perché non iniziare il video Tipo così Con l'intro Del universal Intro dell'universal Che però poi dopo Si unisce Al video Una cosa così Alzo un po' Tanto Copierata Manetta Boom 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 Poi un'interferenza Mi è venuta in mente Sperando Esatto Adesso Ci sono Dei passi Che Devono far sembrare Di uno che entra in una stanza Si mette a sedere Si sta sistemando a sedere E poi scrive la testiera E adesso Dovrebbe partire il video Solamente che C'è Deorro Ma Non so se mi piace Boh Non so Non so Non so Devo fare un intro Quella di Deorro Ci stava Ma Diciamo che non so Come collegarla al video E quello lì Il problema L'altro problema È che c'è un mezz'ora Perché dopo Devo renderizzarlo Sul cd E finirlo Perché poi devo fare la doccia Bisogna che partiamo E sono super in ritardo Un milione Grande capo Ma allora andiamo dietro Andiamo dietro Ciao Che schifo Ciao Senti Italia 1 Però per le corse Devi venire E infatti Ma quanta gente c'è 12 E calcola C'è Dredd fuori A congelare GAMI SQUARE GAMI SQUARE Ciao Ciao Ci sono anche io Oggi è un giorno Molto importante Per noi Per il YouTube Italia Ma soprattutto Per te Il traguardo Del milione di iscritti Penso che sia per lo YouTube Il secondo sogno Al quale aspira Dopo i 100.000 iscritti Essendo il più piccolo Del gruppo Vi ho sempre visto Come i miei fratelloni Più grandi Ai quali ispirarmi Sare Ma parlo di una Competitività Molto amichevole Te Perché mi sei sempre Piaciuto tanto Lo sempre Perché mi sei piaciuto Tantissimo Giocare con te Questo è durato Fino a quando Non siamo riusciti A contattarci Con la prima Ah beh Il cinema è il primo passo Per il milionario Quindi c'è C'è stata Quindi mi stasco Ok Ciao Ciao Gabri Sono anni che siamo assieme Zio Io Te Tutto il gruppo Cazzo ne posso Asaliacqua sotto i ponti E oggi Siamo qui assieme Per festeggiare tutto Siamo qui asaliacqua sotto i ponti Siamo qui asaliacqua sotto i ponti Siamo quierei Gabbisquerre Gabisquere 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 E la waspatta afforta Siamo qui Vediamo Anche Standomi per fallire La zizza Non è Non c'è Vede Tutto sta roba Non c'è Può Dai vai vai È stato lui Da solo E deve ancora arrivare Il ninja Non li hai mangiati te, non mi hai mangiato uno Era il mio tanto per cambiare Gli hai tipo urbati a tutti quanti È la Mark 1, non la Manicino 1000 euro di fotocamera da Arcaccio, ragazzi 1000 euro Ma è sua Perché ci hai messo la muffa qui dentro? Questo è perché così sgrilletti Insomma ci siamo già capiti Oggi facciamo sentire per la prima volta Johnny Cricket Una cosa incredibile, una cosa unica Una cosa... Scusa Quando smetti di farsi sempre un debut Che uomo ragazzi È come un documentario di National Geographic Questo tortellino è buono Questo tortellino è un trucco particolare Il nostro gusto che raffina il nostro palato In realtà ci fa considerare un tutt'uno con il tortellino Un maestro Domenico Una volta mi disse Ah ogni riferimento a cose puramente quelle Il tortellino è buono Modenese Credo più o meno Ricricca le greciettine Incredibile Anche lui è diventato Prendete il coltello Apritele No no Si deve infilare la punta Dentro Ecco così Poi gira Bravo Così esatto Poi almeno io faccio così Ecco buona Ecco grande grande E poi ci sfumiamo Ci metti l'affettato E poi ci metti gli affettati Quindi possiamo metterci Del clamorosissimo Prossure Crude Che spalmeremo così Ah beh siamo di buona Facciertino Noi mica Deve essere bravo Poi Sto aggiungendo un pezzo di parmigiano Stanotte ci divertiamo Noo in macchina quando torniamo Ma che cagherà Ma no Vabbè più quanto gritti Adesso giù e vado avanti Vabbè Lui che ti è acceso Come mi aveva scritto Eh ma quella volta io dietro Si può Gio'ora di andare Si può Ma ne mica bestia Ne mica anche bestia Ma perché è arrivato Johnny Che ha imparato cosa sono le crescentine Eh si Gio'ora di abbandonare Il tuo Secondo me Johnny Stasera Una serata abbastanza impegnativa Dormo da Frax E' già ora di abbandonare Sto questione Neva No Vabbè ciao 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 Oddio Ciao Johnny Ciao 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 E' qua che finisce il video Come potete vedere la neve ormai è già andata via Alla fine è tutto a posto Dark è ritornato in pista Spero davvero che il video vi sia piaciuto Alla fine è venuta una bella sorpresa Secondo me Piena di fame Ma una bella sorpresa Congratulazioni ancora a Bomber per il milione Ma soprattutto grandissima Silvia Che se non era per lei Tutto questo Tutto questo non sarebbe mai accaduto Come quasi ogni festa sorpresa Che gli abbiamo fatto d'altronde E nulla Finisco di Editare il video Bella Ciao